Con una prefazione di Tommaso Montenari e un testo inedito di Aldo Masullo, il libro documenta gli atti dell'iniziativa promossa a Salerno nel 2019 all'archivio di Stato. Sette incontri sul futuro della città con la partecipazione di illustre personalità del mondo della cultura, dell'economia, della politica e del giornalismo italiani. L'anno scorso abbiamo organizzato questi eventi su Salerno Cosa Ci Resta, che è un'altra narrazione della città su questi 25 anni di governo. Nel libro c'è documentato con gli interventi illustri, studiosi, docenti, giornalisti, questa storia, legalità, ambiente, giustizia, politica. Quindi il libro è una testimonianza di un altro modello di città. Qual è quella più toccante, quella più vera e significativa? Sicuramente quella di Masullo, che è scomparso da poco, lui ha fatto una relazione sull'intimità, che secondo me rappresenta il punto iniziale di questa rassegna. Italia Nostra è impegnata su più fronti, presente in questo libro? Certo, questo libro è la documentazione di una forma di indagine sulla situazione esistente. L'intenzione vera è di partire da questo per progettare una nuova realtà politica, sociale e economica della città. Un'altra esperienza indefinibile per certi versi è quella dei figli delle Chiancarelle. Eh sì, un'altra esperienza. Adesso raccontiamo attraverso i resoconti di Salerno cosa ci resta una fotografia di 25 anni di controllo del territorio salernitano da parte di un'amministrazione ben precisa. Ci resta ancora la voglia di combattere, come dice Tommaso Montanari, cioè ci resta la voglia di andare avanti e di dare un'immagine e un'informazione diversa di questa città.